Un nuovo importante capitolo si avvia per Domicem, controllata americana di Colach MSPA, che avvierà la costruzione di una nuova linea di produzione di cemento, parallela a quella già esistente a Sabana Grande e De Palenche, per un investimento complessivo di oltre 120 milioni di dollari, investimento che permetterà di raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento. Ad annunciare il progetto i vertici aziendali ricevuti dal Presidente della Repubblica Domenicana, Luisa Binader Corona, che ha salutato con entusiasmo l'operazione che favorirà la creazione di centinaia di posti di lavoro diretti ed indiretti, oltre agli attuali di Domicem, e darà un forte impulso allo sviluppo economico e produttivo della regione. I manager della società, ringraziando il Presidente della Disponibilità, hanno dichiarato che la nuova linea produttiva entrerà in funzione alla fine del 2022, con l'aumento della capacità di esportazione sia in mercati nuovi che già presidiati. Questo nuovo investimento mostra la fiducia che l'azienda italiana ripone nelle potenzialità della Repubblica Domenicana e nelle sue istituzioni e conferma il percorso di crescita intrapreso nel 2005 che ha portato Domicem ad attestarsi oggi tra i leader di mercato per la qualità di prodotti e servizi, per il livello di organizzazione, per le tecnologie all'avanguardia in grado di produrre cemento nel massimo rispetto dell'ambiente.